e gli ha fatti giusti stavolta? vabbè però sono saldi gli ha fatti giusti ciao a tutti ragazzi sono Spineweb oggi andiamo ad astia se sei già il compleanno da Jackie Spire stavolta sembra andare tutto abbastanza bene non diciamo niente e tra l'altro lì c'è il regalo di Jackie abbiamo iniziato la giornata facendo una colazione barra pranz alla fine al mcdonald perché c'erano le patatine con la salsa al formaggio ad un euro e che fai non le prendi? siamo arrivati finalmente a casa di Jackie eccolo qua quanto è bello sexy con i capelli eh ma sono più bello io guardalo lì davvero fan c'è chi? più sedici eh no persone hai 23 eccolo il famoso regalo il pallone dell'Inter che in realtà non è dell'Inter questo qua il piccolo Tommy non sta fermo un attimo Tommy come ti ho giocando a fortuna dove? cercolo è lì non andava a sparare ce ne sono eh spostati che ti uccide però è morto adesso andiamo a farci un getto abbiamo anche la colonna sonora l'hai visto? ho tutto in una borsa lo so quanta crosta in un supermercato e niente qua ci sono le spade giocattolo e quindi ci sfidiamo mamma mi compri un giocattolo? ma tesoro mio ho solo 2 euro ti posso comprare un gelato ah allora lo rubo ehi mamma voglio questi sono buoni sono yogurt non posso mangiare io non posso mangiare granita time offerta da lui tornati Tommy sei contento? eh? non mi caca ragazzi l'aria condizionata io ne mango qua rap alla Nutella duplacement vadami cucchiaio e cucchialo e farlo meglio e farlo meglio ma che cucchiaio? ma scusate si gira ma sei visto? mio canale facciamo un po' giù ma questo è il mio video mio canale non sei visto? una famiglia è riunita che cucina che bello trap e succo e qua? cioè non è come sei giù? senti tu la mia un filo di cuore io ti faccio 8 pizza ahahah che cazzo hai il coltello fatti 5 quale coltello? vuoi? non si vede che non mi è piaciuta eh? poca ma buona beato fra le donne adesso e mi dà le frustate e questa mi abbraccia ciao le donne ce ne sono andate festa 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 è vero vi vogliamo bene no Tommy cosa stai guardando? e adesso cigniamo eh si abbiamo anche compagnia ciao eh non te lo ricordo io ah alle 8 e mezzo 8 e mezza 8 e mezza più tardi eh più il gatto di pissamone problemi con le masche Ciro che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo guarda è che poca è che cazzo è che cazzo e mi fa lo ricordate questo posto? eh si qua è Dovo rimorchiato mi ha chiamato Shad eh vediamo se riesco a risarire però non c'è la cazza è un po' difficile oggi ci provo eh non so come cazzo Mirko ha le prese con la salita del panno mi ascendo perché se c'è la luce mi sa comunque jacky sei davvero un ottimo navigatore mamma mio rimortacitura che bello il suono dell'acqua indovinate quale treno in ritardo di 5 minuti esatto il nostro treni taglia me giocando a one piece niente stiamo dirigendo verso casa è stata una bella giornata grazie ancora jacky e gescina mi sa di no non glielo faccio gli auguri salutiamo jacky grazie per la giornata e niente la cucina no perchè non mi è nato per tutto il giorno anche mica salutiamo dai puoi per il mio braccio siamo stanchi il treno è partito adesso speriamo di arrivare a casa sarà dura ma vabbè ce la facciamo il treno è partito adesso tra l'altro è sempre di salsebili ma cos'è salsebili c'è sempre odori di mare su sti treni comunque ovviamente il treno da 5 minuti di ritardo è passato a 10 da spada web tutta ciao no ma dille più piano le informazioni grazie te nitraglia grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.